Mister Silvelli è arrivata una sconfitta in casa contro il Foiano, dobbiamo dire che a prescindere dal risultato che ovviamente fa la differenza però è stata una partita molto combattuta e anche piacevole da vedere. Sì, la partita è stata piacevole, è stata più piacevole per loro probabilmente alla fine però noi abbiamo fatto una buonissima prestazione era una partita sul filo di lana insomma, chi avesse fatto l'ultimo errore avrebbe perso anche la partita l'abbiamo commesso noi e giustamente l'abbiamo persa insomma, ma con una grande squadra. Assolutamente vero, dobbiamo dire che però nell'episodio ci sono anche alcune proteste perché prima del rigore è stato reclamato un fallo nei confronti di Angiolucci. Sì, probabilmente c'era un fallo su Angiolucci però anche Angiolucci doveva essere più bravo in quella circostanza ma io voglio cercare di non parlare degli episodi arbitrali perché sennò ci creiamo degli alibi noi abbiamo commesso degli errori, probabilmente pochi in questa partita ma quelli che abbiamo commesso ci hanno condannato noi dobbiamo ripartire martedì prossimo da lavorare su questi errori senza stare a pensare se c'è una punizione o meno insomma, se no si creano solo alibi e ci facciamo del male. La prestazione comunque contro una squadra comunque forte ha confermato qualche passo avanti ulteriore? Ma senz'altro, noi abbiamo fatto passi avanti notevoli. è chiaro che di fronte avevamo una squadra organizzata, avevamo una squadra con un attacco come pochi ne hanno e lo hanno dimostrato fino in fondo. Noi abbiamo tenuto bene secondo me il primo tempo, siamo stati un pochino più leziosi nel secondo anche prima del gol abbiamo forse calato un po' di intensità, abbiamo cercato troppa raffinatezza nella nostra giocata e invece bisognava essere ancora più concentrati, molto di più di quanto lo eravamo stati nel primo tempo e invece non lo siamo stati insomma. Ultima cosa, veramente una battuta, possiamo dire che è un bene tornare fuori casa domenica prossima? Non vedo l'ora, guarda. Mister Fani, un successo importante qua ad Anghiari contro la Baldaccio che vi conferma in un ottimo momento, vi conferma nei piani alti della classifica e soprattutto arriva al termine di una prestazione molto positiva. Sì, abbiamo fatto una gran partita, è stata una gran partita perché anche Anghiari ha fatto un ottimo incontro, è stata dura, credo che alla fine il successo sia anche meritato. Bene per quello che riguarda la solidità difensiva, anche se avete preso gol dopo qualche partita in cui questo non capitava è bene comunque avere quei tre davanti. Sì, noi abbiamo puntato molto su un gioco offensivo e ci ha pagato perché abbiamo creato tanto e anche nel primo tempo c'era un rigore sacrosanto su Mencagli e lì la partita si poteva chiudere. A proposito di episodi, quelli della Baldaccio sono lamentati perché nell'occasione del rigore lamentavano appunto prima un fallo nei confronti di Angiolucci, come l'ha vista lei dalla panchina? Diciamo che ci sono stati tanti episodi, uno, l'ho citato prima, contro e magari qualcuno a favore, non lo so. Diciamo che nella bilancia penso che gli episodi si sono equivalzi. Una domanda perché l'anno scorso è arrivato sulla panchina del Foiano, ha fatto bene trascinando la squadra fuori da una situazione di classifica difficile. Quest'anno nei quartieri nobili ci siete, dove e semmai vorrete arrivare? Noi l'obiettivo che ci siamo previsti all'inizio del campionato è di centrare i play-off e quindi l'obiettivo è arrivare tra le prime cinque. Salute. Salute.